Il suo aspetto, che poteva dimostrare venticinque anni, faceva a prima vista un'impressione di bellezza, ma ad una bellezza sbattuta, sfiorita e direi quasi scomposta. Un velo nero, sospeso e stirato orizzontalmente sulla testa, cadeva dalle due parti, discosto alquanto dal viso. Sotto il velo una bianchissima benda di lino cingeva fino al mezzo una fronte diversa, ma non di inferiore bianchezza. Un'altra benda a pieghe circondava il viso, e terminava sotto il mento in un soggolo, che si stendeva alquanto sul petto, a coprire lo scollo di un nero saio. Ma quella fronte si raggrinziva spesso, come per una contrazione dolorosa, e allora due sopraccigli neri si ravvicinavano con un rapido movimento. Due occhi neri, neri anch'essi, si fissavano talora in viso alle persone, con un'investigazione superba. Talora si chinava in fretta, come per cercare un nascondiglio. In certi momenti un attento osservatore avrebbe argomentato che chiedessero affetto, corrispondenza, pietà. Altre volte avrebbe creduto di coglierci la rivelazione istantanea d'un odio inveterato e compresso, un non so che di minaccioso e di feroce. Quando restavano immobili e fissi, senza attenzione, chi ci avrebbe immaginata una svoiatezza orgogliosa, chi avrebbe potuto sospettarci il travaglio d'un pensiero nascosto, d'una preoccupazione familiare all'animo e più forte di quello che gli oggettici costanti. Le gote pallidissime scendevano con un contorno delicato e grazioso, ma alterato e reso mancante da una lenta estinuazione. Le labbra, quantunque appena tinte d'un roseo sbiadito, pure spiccavano in quel pallore. I loro moti erano come quelli degli occhi subitanei, vivi, pieni d'espressione e di mistero. La grandezza ben formata della persona scompariva in un certo abbandono del portamento, o compariva sfigurata in certe mosse repentine, irregolari e troppo risolute per una donna, nonché per una monaca. Nel vestire stesso c'era quella qualcosa di studiato o di negletto che annunziava una monaca singolare. La vita era attillata con una certa cura secolaresca, e dalla benda usciva su una tempia una ciocchettina di neri capelli, cosa che dimostrava o dimenticanza o disprezzo della regola che perscriveva di tenerli sempre corti da quando erano stati tagliati nella cerimonia solenne del vestimento. Buon di buona gente, sono Luigi in Artilusio e benvenuti a questa nuova video lezione di storia, video lezione che non avrei potuto, non penso che avrei potuto iniziare in maniera diversa. Chi meglio di Alessandro Manzoni poteva descrivere una figura così tragica e così affascinante come quella della monaca di Monza, Gertrude nei Promessi Sposi, Virginia nella realtà storica. Ed è proprio di lei che parleremo in questo video, di Virginia Maria Deleiva, oggi conosciuta come la monaca di Monza. A lei ho già dedicato un video quando ero proprio agli inizi del mio canale, ma era uno di quei video ancora in fase di collaudo, ancora lontani da quest'impianto attuale dei miei video e al momento piano piano, come avrete notato, sto ritornando su quei primi tentativi di video per riproporveli in una maniera più accurata. Infatti verranno altri video che un po' riprendono quei primi temi fatti in maniera più accurata. E' considerato che quest'anno ricorrono i 150 anni della morte di Alessandro Manzoni, l'occasione di parlare di Suor Virginia mi è sembrata adeguata. Iniziamo. La storia della monaca di Monza è forse una delle più iconiche della nostra cultura. Un caso di cronaca nera avvenuto tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, dà un sapore talmente romanzesco che ha finito davvero per diventare parte di un romanzo, anzi del romanzo più iconico della nostra letteratura e non solo di quello. Termini come murata viva e anche monaca di Monza in generale sono entrati nel nostro linguaggio colloquiale e immagini visive come le bambole vestite da monaca usate per inculcare in maniera sottile nella mente di una povera bambina alla vocazione religiosa o anche solo come abbiamo visto una ciocca di capelli che spunta dal velo di una suora. Sono tutte immagini derivate da questa storia, una storia dove violenza psicologica, violenza fisica, sesso, omicidio, sacrilegi, condanne ed espiazioni si coniugano in un unicum, in quello che sembra un noir seicentesco, uno di quelli che potremmo trovare facilmente nel reparto romanzi gialli alla Feltrinelli. Per chi ancora non conosce nel dettaglio le vicende di sua Virginia Maria Deleiva, che dite? Ho stuzzicato abbastanza la vostra curiosità? Volete che vi accompagni nel cuore di questa vicenda torbida? Così come la sventurata rispose, allo stesso modo questo vostro povero sventurato vi racconterà. E iniziamo. Con lei che sarebbe passata alla storia come la monaca di Monza, nacque a Milano tra il novembre e il dicembre del 1575 e venne battezzata con il nome di Marianna. Nacque all'interno di una famiglia che di certo non era una famiglia di ultimi arrivati, ovvero la famiglia Deleiva, una nobile famiglia spagnola che aveva ottenuto il titolo di conti e feudatari di Monza dall'imperatore Carlo V d'Asburgo, che concesse tale titolo al principe Antonio Deleiva nel 1531 per essersi distinto nella battaglia di Pavia. Questo primo conte di Monza era il bisnonno di Marianna, la quale era figlia di suo nipote, il conte Martino Deleiva. Sua madre era invece Virginia Marino, figlia di un facoltoso banchiere genovese. A dispetto delle sue nobili, della sua nobile ascendenza, la piccola Marianna venne al mondo in una famiglia parecchio affollata. Sua madre infatti era vedova e aveva già avuto cinque figli dal primo marito e purtroppo lei stessa venne a mancare poco meno di un anno dopo la nascita della figlia. Probabilmente secondo la maggior parte degli storici morì di peste. Fatto sta che Martino Deleiva, dopo proprio il minimo essenziale del tempo per il lutto, si risposò di nuovo, stavolta con una nobildonna spagnola dalla quale ebbe altri figli. Ora, penso abbiate già capito dove stiamo andando a parare. Molti figli voleva dire dividere le sostanze dei genitori in parti più eque possibili, tra moltissime virgolette. E purtroppo un'unica figlia femmina neonata non poteva certo uscirne bene, non avendo nessuno disposto a curare i suoi interessi e non con altrettanti figli, fratelli e sorelle sia da parte di madre che da parte di padre. Da parte della defunta madre lei era stata lasciata un'eredità che avrebbe però dovuto condividere col fratello maggiore, ma quest'ultimo con la scusa di curare gli interessi della sorella neonata, con la scusa di doversi occupare della dote delle sue altre quattro sorelle, finì per ridurre anche la parte di eredità di Marianna. Mentre invece da parte di suo padre Martino manco a parlarne. Famiglia nuova, vita nuova e quando la seconda moglie gli sfornò altri figli fu su di loro che Martino si concentrò. Siamo in un'epoca in cui per non disperdere eccessivamente il patrimonio di famiglia i figli minori avevano il destino segnato dalla nascita. Se maschi c'era o il convento o l'esercito. Entrambi dei campi in cui comunque avrebbero potuto spiccare e crearsi una fortuna loro. Se femmine o un buon matrimonio, nei limiti permessi dalla dote che veniva loro concessa, oppure il convento che a seconda dei casi poteva essere o una benedizione o una dannazione. Ho già avuto a modo di parlare in altri miei video della vita monastica nella sfera femminile del passato e di come essa, a dispetto della vulgata comune che vede la monacazione unicamente come frutto di costrizioni, violenze psicologiche, in realtà molto spesso poteva anche essere una libera scelta da parte delle donne che trovavano nella vita monastica una loro indipendenza, lontana dalla sfera oppressiva maschile che in ambito sia familiare che sociale tendeva molto a soffocarle, a togliere loro libertà e individualità. Con questa storia invece ritorniamo alla monacazione forzata frutto appunto di violenze psicologiche e come vedremo anche di quello che oggi potremmo definire plagio, manipolazione proprio. Ci tengo particolarmente ad aprire e chiudere questa parentesi non solo per sfatare quello che molti ritengono un dato di fatto a 360 gradi, ovvero del fatto delle monache viste perennemente come donne costrette a prendere i voti. In realtà voglio dire che il concetto della monacazione femminile era molto più complesso e sfaccettato di quanto oggi non crediamo. Se da una parte abbiamo storie di donne che hanno trovato la libertà e la vita tra le mura di un convento, come viene riportato ad esempio nel libro Donne in fuga, che ho utilizzato per il mio video sul processo a Giovanna d'Arco. Dall'altro abbiamo anche le storie di donne come la nostra piccola Marianna appunto che vengono costrette dalle loro stesse famiglie ad abbracciare una vita che loro non hanno mai scelto liberamente e la violenza e l'oppressione non possono che generare dei mostri, come vedremo nel corso di questa storia. Questi due aspetti opposti altro non sono che due facce di un'unica medaglia. Chissà, forse in altre circostanze, se Marianna avesse avuto sinceramente una vocazione sincera, il suo destino non le sarebbe parso così in nero come fu, ma la sua propensione non fu orientata verso la vita monacale. Le venne inculcata a forza. Suo padre, non volendo occuparsi di lei, la affidò, forse già col chiaro intento di rinchiuderla in seguito in un convento, a sua sorella, la Marchesa Marianna de Leiva, una donna non bigotta di più. Una rappresentazione dal vivo della tipica bizzocca vestita per elementi di nero, con rosario tra le dita, sempre pronta a dispensare moralismi religiosi non richiesti, a decantare le punizioni divine per ogni peccato che si commette in vita, insomma tutte quelle belle cose che ti fanno diventare ateo, ecco. Il crescere sotto la tutela della zia fu, per la piccola Marianna, un'anteprima della vita monacale che a questo punto possiamo dirlo già era stata decisa per lei. Non conosciamo nel dettaglio come Marianna visse la sua infanzia, ma possiamo azzardarci a dare abbastanza per buona la ricostruzione che Manzoni ne ha dato nella sua versione nei Promessi Sposi, che comunque da parte sua si era documentato sugli iscritti dello storico Giuseppe Ripamonti, un contemporaneo della monaca di Monza che ebbe anche modo di conoscerla di persona quando era ormai anziana e la sua esistenza turbolenta già l'aveva vissuta. Quindi possiamo immaginare questa bambina che visse in un castello molto simile a un convento, costretta a seguire una ferrea regola di vita costellata da moltissime sedute di preghiera e pochissimi svaghi, se non nessuno, e che riceveva come unici regali bambole vestite da suore, santini e immaginette di sante monache, rosari e libri di preghiere. Il tutto ovviamente era dovuto al carattere al limite del fondamentalismo religioso della zia, ma è praticamente certo che il tutto era fatto proprio col consenso del padre che sperava, come abbiamo detto in questo modo, di inculcare nella bambina l'idea inevitabile della sua vita spesa totalmente all'interno del chiostro. Bene, come abbiamo visto quindi violenza psicologica e manipolazione mentale su una bambina. Iniziamo benissimo, bene proprio. L'infanzia non già tanto felice di Marianna non era comunque destinata a durare a lungo. Infatti nel 1586, a 11 anni, forse anche in concomitanza con l'inizio del suo sviluppo fisico, o proprio quando si aveva sentito che potesse iniziare a svilupparsi, venne mandata dalla zia nel convento delle monache benedettine di Santa Margherita a Monza, per farle iniziare il suo educandato, praticamente l'anticamera dei voti perpetui. Come detto, dell'infanzia di Marianna non sappiamo quasi nulla. Possiamo quindi solo ipotizzare se la bambina, diventata poi un'adolescente, si sia resa conto ad un certo punto, come la sua controparte manzoniana, se lei avesse la possibilità di fare una scelta che fosse solo sua, magari anche scegliere di non prendere i voti. Nell'epoca che stiamo trattando siamo in piena controriforma e la Chiesa Cattolica stava cercando di sopperire a tutte quelle storture che avevano portato alla riforma di Lutero, partendo da risolvere il problema degli scandali all'interno dei conventi, principalmente femminili, ma anche maschili, dove monacazioni forzate e assenze di vocazione portavano alla ricerca di evasioni alla vita claustrale, vissuta in maniera opprimente da chi questa scelta se l'era vista imporre, col risultato di scandali che andavano a macchiare il buon nome della Chiesa. Non si contavano suore che partorivano in segreto figli avuti da relazioni illecite, preti che, approfittando delle loro cariche, usavano i conventi nei quali andavano a svolgere funzioni di messa o di confessori, ecco, usavano quei conventi come se fossero dei postriboli, fino ad arrivare alla nascita di relazioni omoerotiche, tanto maschili quanto femminili, che in effetti era la cosa più semplice che potesse accadere in ambienti dove metti tante persone dello stesso sesso con una libido che viene oppressa, quindi sì, potete immaginare simili scenari. Vabbè, ok, se non andiamo nel torbido perché ho paura che poi YouTube mi demonetizzi il video. Casomai se vi interessa, io una volta quando ancora scrivevo fanfiction su EFP, scrissi una fanfiction proprio su questo argomento, è un po' zozzetto, vabbè, se volete vi lascio il link qui giù, non lo so se, non mi ricordo se ci vuole la registrazione perché hai rating rosso o se hai rating arancione quindi la si può leggere, comunque, vabbè, se potete leggere la ve la lascio qui se siete curiosi, vedete pure un poco come scrivo, come scrivevo le fanfiction anni fa, mamma mia come sto diventando vecchio. Allora, ricomponiamoci, allora, per sopperire quindi a tutto ciò per risolvere questi scandali, la Chiesa invitava i giovani e le giovani novizi e novizie ad ammettere sin da subito se avevano la vocazione o se invece venivano costretti e in questo caso la Chiesa stessa si preoccupava di sostenere le spese per dare una dote alle ragazze senza vocazione permettendo loro di sposarsi o di dotare i ex novizi per permettere loro una vita al di fuori della sfera ecclesiastica oppure nel caso di monaci e monache costretti a ammonacarsi si provava a insegnare loro a vedere il bicchiere mezzo pieno, a riconoscere che comunque è una vita che li preservava dai mali del mondo e che potevano comunque, assicurava loro la serenità e un posto in paradiso se ben vissuta. Vabbè, erano questi tentativi deboli o no che fossero. Purtroppo era più facile a dirsi che a farsi perché molti di questi giovani erano come abbiamo visto vittime di manipolazioni e spesso e volentieri anche vittime di minacce da parte dei parenti. Di conseguenza non tutti avevano il coraggio di ammettere che non volevano questo tipo di vita. Forse anche Marianna si ritrovò ad arrovellarsi su questa possibilità ma anche lei versava in queste condizioni di sudditanza nei confronti del padre e della zia, i quali comunque avevano cercato di indorare la pillola ricordandole che lei, in quanto figlia del conte di Monza, il quale viveva la maggior parte della sua vita in Spagna, avrebbe potuto esercitare le funzioni di feudataria anche all'interno del convento in rappresentanza di suo padre. Sarebbe stata sì una monaca ma non come le altre, avrebbe avuto potere amministrativo in ambito cittadino e questo di riflesso l'avrebbe portata ad avere un ruolo di spicco anche all'interno del convento, alla pari con la madre superiore, se proprio lei no, se proprio Marianna stessa non fosse stata eletta proprio lei superiore. A suo modo questo doveva essere un modo per vedere il bicchiere mezzo pieno, come ho detto prima, ma Marianna era ancora una ragazzina in quest'epoca. Seppure valutò seriamente questo aspetto della sua vita futura, in età adulta avrebbe potuto vedere le cose in maniera diversa, come infatti avvenne. Il 12 settembre 1591, all'età di nemmeno 16 anni, Marianna pronunciò i voti e prese il velo col nome di Suor Virginia Maria, come sua madre, con il nome di sua madre, e per il resto della sua vita, tra alti e bassi, per citare Manzoni, fu monaca per sempre. A dispetto di quanto penso crediate al momento, questa nuova fase della vita di Marianna, che adesso chiameremo Virginia, fu abbastanza serena. Lei prese seriamente la sua vita da religiosa, che si svolse per quei primi anni senza macchie o ombre di scandalo. Era una monaca irreprensibile e seria, e venne nominata maestra delle novizie. Accanto alle sue mansioni religiose, come le era stato assicurato, svolse anche funzioni amministrative da feudataria di Monza, facendo le veci del padre assente. Quindi, stesso dal convento di Santa Margherita, rispondeva a richieste di comuni cittadini o di ricchi possidenti, se dava questioni di confine e di mercato, continuava ad amministrare anche i possedimenti della sua famiglia. Questo ruolo di feudataria si faceva sentire anche all'interno del convento, seppur in maniera più silente. Virginia non approfittò mai della sua ascendenza per prevalere sulle sue consorelle, diciamo magari facendosi eleggere superiore. Questo no, anche perché in fondo accumulare così tante cariche non le sarebbe convenuto, soprattutto per qui è tuo vivere. Come monaca feudataria aveva già molto più di quanto non avessero le sue consorelle. Aveva addirittura quella che potremmo definire una sua piccola corte, con due monache a lei fedelissime che fungevano da sue assistenti personali, suor Ottavia Ricci e suor Benedetta Romati. Tenetele a mente perché saranno molto importanti ai fini della narrazione. Questo quadro di rispettabilità purtroppo arrivò al Capolinea nel 1597, quando lo sguardo di Virginia incrociò quello di un giovane la cui casa confinava con le mura del convento. Quel giovane si chiamava Giampaolo Osio e come la maggior parte dei nobili di quell'epoca era un grandissimo pezzo di pepepepepepepepepepepepepepepepepepe. Nonché il resto della sua famiglia fosse questo assemblaggio di persone squisite. Il padre, Giovanni Paolo, morto di peste nello stesso periodo in cui morì la madre di Virginia, a suo tempo, vedi un po' le coincidenze. Il padre, Giovanni Paolo Osio, aveva ucciso un suo parente, il visconte di Solbiate, e anche i fratelli maggiori di Giampaolo non erano di meglio. Il maggiore, Cesare, a 15 anni ammazzò un giovane con il quale si era appartato, capite a me. E per evitare l'arresto scappò a Milano dove creò un gruppo, mise insieme una banda di ragazzotti deliti alle rapine, gli omicidi, gli adescamenti, altre cose che non posso dire perché altrimenti YouTube si arrabbia. Vi dico solo che era la Velvet Mafia italiana, chi vuol capire capisca, amica amica, ok? E il secondo fratello, Teodoro, lui fece una cosina da niente, uccise uno zio per questioni di eredità. Cioè, per il momento mi sembra la cosa più tranquilla in mezzo a tutto questo ambaradan. Ok, all'epoca di quel primo incontro, Giampaolo doveva avere tra i 21 e i 27 anni non si hanno certezze sulla sua data di nascita e anche lui si era già fatto una certa fedina penale, se così possiamo dire, ma diciamo che se confrontato agli altri suoi parenti sembrava essere quello meno peggio. Alla radice del loro primo incontro, del primo incontro tra Giampaolo e Virginia, ci fu un flirt che Giampaolo aveva instaurato tra i rami dell'albero del suo giardino che affacciavano sul cortile del convento con una giovane novizia. Ed essendo Virginia la maestra e la responsabile delle novizie, è ovvio che non poter lasciare passare una simile sconcezza. La novizia in questione venne rimandata dalla sua famiglia, Virginia si preoccupò di fare una sonora lavata di testa a Giampaolo e quest'ultimo reagì come avrebbe reagito un qualsiasi stereotipo maschile dei nostri tempi. Lasciò perdere le giovani novizie e decise di conquistare l'austera monaca 22enne che aveva tentato di porre dei paletti alla sua libido. Gli inizi non furono nemmeno in questo caso dei più sereni, non che il seguito sia proprio la storia d'amore dell'anno. Un mese dopo questo primo contatto tra i due, Giampaolo uccise Giuseppe Molteno, un avvocato che si occupava di amministrare alcune delle proprietà di Virginia. Sembrò trattarsi di una forma di rivalsa ai rimbrotti di Virginia, ma secondo alcuni questo delitto sarebbe stato frutto della gelosia. Infatti si mormorava, non ci sono prove al riguardo, che tra Virginia e il Molteno ci fosse una relazione e Giampaolo, conquistato a prima vista dalla monaca e desideroso di conquistarla, pensò bene di eliminare quello che sarebbe potuto essere un probabile rivale. Come c'era da aspettarsi, Virginia reagì denunciando il fattaccio e Giampaolo fu costretto a rifugiarsi a Milano. Solo le preghiere di sua madre, Sofia Bernareggi, riuscirono a convincere alla fine Virginia a ritirare la denuncia permettendo a Giampaolo di fare ritorno a Monza. Da qui in poi si scende la china. Dalle testimonianze emerse durante il processo tenutosi anni dopo, Virginia ammise che fu in questo periodo, nella primavera del 1598, che i rapporti tra lei e Giampaolo iniziarono a stringersi sempre più, con lui che la pregò di dargli il permesso di scriverle per scusarsi, per ringraziarla e chiedendo più e più volte di poter incontrarsi con lei per scambiarsi delle parole, per parlare nel parlatorio del convento, una zona che permetteva i contatti tra le suore e il mondo di fuori, rispettando comunque la clausura. Bisogna tenere a mente questo aspetto. Da quando Giampaolo era ritornato nella sua abitazione confinante col monastero, Virginia aveva iniziato a dimostrare un certo interesse nei confronti del giovane vicino, interesse alimentato dall'evidente interesse ricambiato dallo stesso Giampaolo, che da parte sua la sedusse nel vero senso della parola, come solo un tipico seduttore capace di fare. Ricordiamoci che stiamo comunque parlando poi di una giovane di 23 anni costretta a mantenere un voto di rinuncia, castità e continenza che non aveva mai scelto. Era anche ovvio che la fame di vita iniziasse a strabordare da lei, ma questo percorso che avrebbe portato ad una relazione proibita passò attraverso un'altra azione orribile. A rimarcare il fatto che non ci troviamo di fronte a una storia d'amore stile James Cameron. Infatti una notte, nel settembre di quello stesso anno 1598, mentre erano impegnati in uno dei loro incontri segreti, Giampaolo approfittò del fatto che la porticina del parlatorio non fosse chiusa col catenaccio come doveva essere, la spalancò, si gettò su Virginia e le fece... vabbè avete capito. A ciò Virginia riuscì a sfuggire a stento scappando nella sua cella e la cosa più tremenda è che questo orribile atto avvenne sotto gli occhi di due testimoni, le due fedeli monache di Virginia, Suor Ottavia e Suor Benedetta, le quali, secondo la testimonianza resa in seguito da Virginia, non fecero nulla per fermare Giampaolo e salvarla, cosa che lascia intendere che ci fosse già una connivenza già presente tra Giampaolo e le due monache. Teniamo ancora un attimo in caldo queste due figure, Suor Ottavia e Suor Benedetta, e ritorniamo a Virginia che aveva appena subito una violenza vera e propria. Non è mai facile spiegare cosa scatti nella mente di una vittima di violenza, soprattutto oggigiorno ne siamo molto più consapevoli. Non voglio insinuare nulla su un tema così delicato, mi limito a rimanere nell'ambito di questa vicenda basandomi sui dati in nostro possesso. Mi verrebbe da ipotizzare che così come l'era avvenuto da bambina in famiglia, anche a questo giro, Virginia finì per ritrovarsi ad essere vittima di una vera e propria manipolazione, o non si spiega altrimenti il perché, nonostante la violenza subita, lei ritornò a rivedersi di nuovo con Giampaolo e, alla fine, a dicembre di quello stesso anno, lo fece entrare nel convento di notte e gli permise di entrare nella sua cella, per motivi che possiamo ben immaginare. Come abbiamo visto, già prima della violenza, Virginia aveva iniziato a provare qualcosa per Giampaolo, un sentimento alimentato a bella posta proprio da Giampaolo stesso, tramite mezzi di lusinga come lettere, regali, belle parole, anche altro, possiamo ipotizzare anche qualcos'altro, tutte cose che non potevano non colpire una ragazza che non aveva mai ricevuto attenzioni e affetto in tutta la sua vita, a meno che non derivassero dal rispetto dovuto al suo ruolo di feudataria o al suo cognome, e per una volta c'era qualcuno che la vedeva e la voleva per ciò che era, una donna per quanto monaca. Quindi, carenze affettive, lusinghe, un già corroborato gioco di seduzione, una probabile confusione dovuta ad una violenza subita, e ci aggiungerei la probabile pulce nell'orecchio messa dalle sue due amiche, suor Ottavi e suor Benedetta, che così come non avevano fatto nulla per aiutarla durante la violenza, e molto sono piuttosto convinto che abbiano operato come agenti interni per conto di Giampaolo, ecco, con la somma di tutti questi elementi la relazione è servita. La sventurata rispose, alla fine dell'anno 1598, suor Virginia Maria de Leiva, la signora di Monza, e il conte Giampaolo Osio, erano diventati amanti. Che che se ne dica oggi, la loro non fu una relazione segreta, era praticamente impossibile che lo fosse, non si porta avanti una relazione clandestina tra una monaca molto potente e conosciuta, e un nobile libertino e criminale altrettanto noto, all'interno di un convento pieno di suore dall'orecchio attento e l'occhio fino, e usando mezzi che richiedevano, come vedremo, l'assistenza di agenti esterni al convento, pronti a fornire chiavi di riserva per serrature e lucchetti, o impiastri medicamentosi per evitare o anche annullare gravidanze. La relazione tra Virginia e Giampaolo durò ben sette anni, ed è impossibile che in sette anni nessuno si rese conto di nulla. Semplicemente tutti sapevano, ma nessuno parlava. Le suore, per non macchiare il loro convento, con uno scandalo che col passare del tempo avrebbe assunto proporzioni sempre più gravose. Tutti gli altri per l'autorità che Virginia ricopriva a Monza, soprattutto dopo che nel 1599 suo padre, Martino de Leiva, venne a mancare. Dal momento che il figlio maschio avuto dalla seconda moglie non solo era ancora un bambino, ma non si staccava dalla Spagna, Virginia ne approfittò per far valere la sua autorità e assumere non solo il ruolo di feudataria di Monza, non più come incarico di rappresentanza, ma proprio come incarica per diritto di eredità, ma si fregiò anche del titolo di Contessa de Leiva, aumentando in questo modo la sua autorità sia dentro che fuori il convento, dove quello stesso anno venne eletta vicaria e riuscì a porre nel ruolo di madre superiore una sua fedele, Suor Beatrice Castigliona, una suora più che disposta a chiudere gli occhi su quanto stava avvenendo tra le mura di Santa Margherita. Ma parlando di fedelissimi e compiacenti, è dopo aprire una parentesi su quelli che furono i complici dei due amanti. A parte la silenziosa consapevolezza di tutto il monastero, ci furono quattro monache che presero parte attiva alla turbida vicenda di Virginia e Giampaolo. Due di esse le abbiamo già viste, Suor Ottavia Ricci e Suor Benedetta Romati, le più attive, le più presenti, le più complici all'interno di questa vicenda, come abbiamo già avuto modo di vedere. Probabilmente erano due compagne di noviziato con le quali Virginia aveva più legato, tanto che le volle come sue compagne di cella e assistenti quando iniziò ad assolvere mansioni di feudataria. Le due monache furono, come ho detto, le più partecipi della relazione di Virginia e Giampaolo, relazione che forse loro stesse avevano aiutato ad instaurare con il loro silenzio e con il loro adescamento interno per conto di Giampaolo. In seguito, a quanto risulta dalle testimonianze emerse durante il processo, le stesse Ottavia e Benedetta avrebbero avuto dei rapporti con Giampaolo con la compiacenza della stessa Virginia. Bene, allora, con Buona pace di Roberto Gervaso, che lo vede che nel suo libro analizza questa cosa come un tentativo morboso dei due amanti di mantenere viva la passione, in realtà è molto più probabile che fu un modo dei due amanti di tenere legate le due suore. Coinvolgendoli ancora di più, rendendole parti attive dello scandalo, avrebbero evitato che si lasciassero andare a rivelazioni o pentimenti che avrebbero potuto in tal caso causare danni anche alle stesse Ottavia e Benedetta. Secondo un'altra lettura, invece, i rapporti sarebbero stati premeditati dalle due suore, che in questo caso quindi avrebbero favorito la relazione tra Virginia e Giampaolo col chiaro intento di godere anch'esse dei favori del giovane Osio. Ma questo ci viene suggerito dalle confessioni che Giampaolo rese al tempo in cui lo scandalo era deflagrato, confessioni che puntavano a ripulire sia lui che Virginia da tutte le colpe e addossare queste interamente su Ottavia e Benedetta. Probabilmente sono propenso a pensare che la verità la si trovi sempre nel mezzo. Le altre due complici non furono così partecipi come Ottavia e Benedetta, ma furono presenti nei momenti clou della vicenda di Virginia. Le altre due erano Suor Candida Colomba Trotti de Brancolini, l'organista del convento, e Suor Silvia Casati. Loro due sembrano fare più che altro atto di presenza in questa storia, anche se Suor Candida spiccò per una relazione clandestina parallela a quella principale, come vedremo tra pochissimo, mentre Suor Silvia sembra essere una poveretta presa a caso così nel mucchio delle suore che tutto sapevano e che nulla dicevano. La scrittrice Marina Marrazza, nel suo romanzo Il segreto della monaca di Monza, scrive che Suor Silvia era una lontana cugina di Giampaolo, spiegando così la sua partecipazione all'intrigo. Ora, non ho trovato elementi a suffraggio di ciò, quindi non so se questa parentela è un elemento inventato della Marrazza o se lei, che comunque è una scrittrice che si è documentata in maniera oculata per la stesura del suo romanzo, ha avuto modo di trovare questo dettaglio. Se voi ne sapete qualcosa, vi prego, fatemelo sapere nei commenti, sono davvero curioso, vi ringrazio. Poi c'era un altro complice, stavolta di Giampaolo, un prete, Paolo Arrigone, lo stereotipo negativo del tipico prete cattolico che non si sforza nemmeno di predicare bene e razzo la malissimo. Anche di lui si sapeva che fosse solito intrattenersi con le religiose dei conventi dove svolgeva funzioni di confessore, aveva una relazione more e uxorio con la sua perpetua e fu l'autore di molte delle lettere che Giampaolo scrisse per Virginia all'inizio della loro relazione. Sembra che Don Paolo si fosse prestato a ciò perché sperava a sua volta di sedurre Virginia, ma vedendo che da lei non sortiva alcun effetto, decise di ripiegare su una delle sue ore complici, ovvero sur Candida Colomba, con la quale intrattene una relazione. La relazione tra Virginia e Giampaolo andò avanti tranquillamente nell'omertà generale, senza alcuna caduta o abbassamento dell'interesse reciproco. Questo ha sempre fatto pensare un bel po' gli storici. Tra loro due fu solo attrazione o ci fu qualcosa di più? Consideriamo che una relazione fondata solo sui sensi tende ad esaurirsi ad un certo punto per la maggior parte e suona strano dunque che questi due abbiano tenuto in piedi una relazione che li metteva a rischio di scandalo per tutto questo tempo, quando Giampaolo avrebbe potuto tranquillamente trovarsi un nuovo interesse o Virginia avrebbe potuto decidere di interrompere la relazione per non rischiare la sua carica di feudataria macchiandola con un simile scandalo. Che quella relazione nata dall'attrazione si fosse convertita in un sentimento d'amore? Sembra incredibile a dirsi e lungi da me voler romanticizzare quello che di fatto è un caso di cronaca nera, ma sembra assai probabile, soprattutto quando questa relazione venne coronata dalla nascita di una figlia. Sì, Virginia rimase incinta una prima volta nel 1602, ma diede alla luce un bimbo nato morto, probabilmente a causa degli impiastri medici che assunse per indursi un aborto. Nell'agosto del 1604, nel pieno della notte, Virginia diede alla luce una bambina, viva stavolta, a dispetto dei rinnovati tentativi di Virginia di interrompere la gravidanza anche a questo giro. Non era una cosa poi così rara che monache che intrattenevano relazioni partorissero in segreto i frutti di queste relazioni. La maggior parte delle volte i neonati o nascevano morti o venivano fatti morire e sepolti tra le mura stesse dei monasteri per evitare degli scandali. Anime più generose invece si limitavano a fingere che i bambini fossero neonati messi nelle ruote degli esposti che si trovavano in alcuni conventi e messi o nei brefotrofi oppure affidati a famiglie di contadini o a genitori che volevano avere un figlio. Questa bambina appena nata venne affidata alle cure di Giampaolo che la portò con sé a casa sua e la crebbe, dandole il nome di Alma Francesca Margherita e legittimandola come figlia sua e di una donna sconosciuta che lui avrebbe sposato segretamente, tutto questo proprio per evitarle il marchio dell'illegittimità. Ma la piccola Alma Francesca non venne cresciuta solo dal padre ma anche dalla madre non dichiarata, Virginia, che si faceva mandare da una serva di casa Osio la piccolina quattro volte a settimana nel convento e se la coccolava, se la abbracciava, la trattava come una madre tratterebbe una figlia e quando capitava che la piccolina non potesse muoversi da casa Osio perché malata, era Virginia che di notte infrangeva la clausura e si introduceva segretamente in casa Osio per vegliare sulla figlia assieme a Giampaolo. Ecco, per molti storici la nascita di Alma Francesca e il nuovo ruolo di genitori non solo consolidò il legame tra i due amanti ma sembra che li migliorò. Anche sul piano umano, soprattutto Giampaolo che dimostrò un amore paterno nei confronti della figlia impensabile in un criminale della sua risma. Tutto quanto avrebbe potuto concludersi così, con questa sorta di lieto fine, una storia torbida iniziata sotto i cattivi auspici, coronata dalla nascita di una figlia che spazza via tutta l'oscurità di una storia peccaminosa. Eh sì, mi piacerebbe, mi piacerebbe che finisse così, eh. Ovvio che le cose non andarono bene, anzi, se possibile, la nascita della povera Alma Francesca alimentò ancora di più dei mormori che iniziarono a diventare voci sempre troppo alte. E una di queste voci fu quella di Caterina Cassini, una novizia di circa 18 anni, parecchio problematica, una di quelle che causavano non pochi grattacapi a Virginia e alle altre monache. La sventata Caterina segnò il suo destino quando, rimproverata per l'ennesima volta da Virginia, la minacciò apertamente dicendo che se non avesse smesso di trattarla così severamente, alla prossima visita del vicario delle suore, Monsignor Barca, gli avrebbe raccontato tutto quello che avveniva di notte al monastero e del quale nessuno aveva il coraggio di parlare. Non l'avesse mai fatto. Capendo di star rischiando parecchio, Virginia diede ordine che Caterina venisse rinchiusa in una cella di isolamento, sperando di farla ragionare. Indovinate un po'? L'isolamento fece incavolare ancora di più Caterina, che iniziò a dirne di ogni, minacciando di rivelare apertamente tutto quanto avveniva nel monastero. Dopo quattro giorni di prigionia, nella notte tra il 28 e il 29 luglio del 1606, Virginia e le sue quattro complici andarono da Caterina, sperando di farla ragionare e di strapparle il giuramento che non avrebbe raccontato nulla. E quando la ragazza reiterò le minacce dicendo che non sarebbe stata zitta, Giampaolo, che aveva aspettato fuori dalla porta, piombò dentro la cella e colpì alla testa Caterina con un piede di bicocca, cioè una sorta di piccola mazza di legno con la punta in metallo, uccidendola sul colpo. Il corpo di Caterina venne trasportato poi a casa di Giampaolo, dove venne fatto a pezzi, pezzi che vennero dispersi dallo stesso Giampaolo nei dintorni di Monza. E da qui capite che il vero fatto di cronaca non riguarda tanto la relazione clandestina tra un profano ed una monaca, quanto un delitto commesso all'interno di un luogo sacro, o meglio più di un delitto. Per occultare il delitto venne diffusa la voce che Caterina fosse fuggita dal convento, e per avvalorare questa ipotesi venne praticato un buco nel muro del convento, attraverso il quale si diceva che la giovane conversa fosse scappata, forse per raggiungere l'Olanda, o uno di quei luoghi dove aveva preso piede la fede riformata e che erano rifugio di tanti ex religiosi che avevano lasciato l'abito. Manco a dire che la situazione ormai era cambiata. Se le monache di Santa Margherita e gli abitanti di Monza potevano anche fingere di non vedere una relazione clandestina tra Suor Virginia e il conte Giampaolo Osio, un discorso ben diverso era una sparizione misteriosa e sospetta alla quale nessuno credeva. In particolare, un fabbro di 60 anni, tale Cesare Ferrari, al quale si erano rivolti spesso e volentieri i due amanti per farsi dare le chiavi per aprire, dei duplicati delle chiavi per aprire i lucchetti e le porte del monastero, iniziò a dire che se si voleva ritrovare la povera Caterina bisognava non cercarla fuori ma scavare dentro il convento. Tanto bastò per segnare la sua fine. Nell'inverno di quello stesso 1606 venne ucciso anche lui a colpi di pugnalate da alcuni dei bravi di Giampaolo, ma questa catena di sangue non si interruppe qui. Un anno dopo, nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 1607, venne eliminato con un colpo di archibugio lo speziale Raniero Roncino. Le motivazioni? Anche lui stava iniziando a parlare troppo e a voce troppo alta, non solo accennando alla relazione tra Virginia e Giampaolo e alla scomparsa di Caterina, ma anche alla figlia legittimata di Giampaolo, la piccola Alma Francesca. Infatti, era stato proprio il Roncino, ai tempi delle gravidanze di Virginia, a fornirle quei medicamenti che dovevano aiutarla ad abortire. La situazione ormai si era fatta insostenibile. Non si trattava più solo di una storia di sesso, ma si parlava di omigidi veri e propri, ed era chiaro a tutti che dietro tali delitti c'era la mano di Giampaolo Osio. Che ci fosse anche la mano di suor Virginia pure sembrava un fatto evidente, ma vista la sua carica e il suo abito monacale, nessuno aveva avuto il coraggio di denunciarla apertamente, perché nessuno poteva vantare un'autorità tale da prevalere su di lei. Questo fino a quando una persona non decise di fare la mossa più intelligente per porre fine a tutto questo, prima che le cose si complicassero ulteriormente e che altre persone ci rimettessero la vita. Ovvero, non sbandierando le cose irresponsabilmente ai quattro venti, ma denunciare il tutto ad una massima autorità tramite una semplice e silenziosa lettera. La nuova superiore del convento, suor Angela Sacchi, mandò una lettera al cartinale Federigo Borromeo, sì ragazzi proprio lui, nella quale denunciava non solo tutti gli accadimenti degli ultimi anni, sparizioni o micini inclusi, ma anche ventilando il sospetto che lo stesso Giampaolo Osio, sul quale pendeva una taglia per l'omicidio del Roncino, si ventilava il sospetto che Giampaolo si stesse nascondendo all'interno del convento, cosa che era in effetti vera. In quel periodo Giampaolo si stava nascondendo nel solaio della cella di Virginia. Suor Angela Sacchi probabilmente era consapevole che le cose si erano spinte troppo oltre e che continuare a fingere di non vedere e non sentire avrebbe solo aggravato una deflagrazione inevitabile. Per questo fu lei a prendere la decisione non di denunciare apertamente, ma di rilasciare dei sospetti sui quali era necessario indagare. finalmente una persona intelligente. Tanto bastò. A quanto pare le voci attorno alla vicenda di suor Virginia erano già da tempo arrivate in alto loco e si stava anche lì aspettando una buona occasione per indagare in maniera più approfondita perché dopo soli tre giorni dopo l'invio della lettera di suor Angela venne spiccato un mandato d'arresto nei confronti di Virginia. Colpita nel suo buon nome Virginia si ribellò quando le guardie arrivarono al convento per arrestarla. Si difese con le unghie e con i denti. Arrivò addirittura ad impugnare la spada del sempre nascosto Giampaolo menando fendenti a destra e a manca per allontanare le guardie ma venne subito disarmata, arrestata e portata nel convento di Sant'Ulderico al Bocchetto a Milano in attesa della fine delle indagini e dell'inizio di un processo ormai inevitabile. Giampaolo invece riuscì a fuggire dal convento sempre di nascosto la sera stessa dopo l'arresto di Virginia ma suor Ottavia e suor Benedetta temendo di subire un destino uguale a quello della loro signora lo pregarono di portarle con lui e aiutarle a fuggire ad andare fuori dalla giurisdizione di Monza per non essere arrestate. Giampaolo acconsentì a farle uscire dal convento e a portarle con sé. Ma non certo per aiutarle. Vista la situazione ai suoi occhi le due suore erano due ulteriori problemi. Non erano più delle complici ma bensì erano pericolose testimoni dei crimini commessi da lui e Virginia. Così lungo la strada tentò di eliminarle. Mentre attraversavano il fiume Lambro su un ponte Giampaolo spinse suor Ottavia di sotto e fingendo di volerla aiutare a risalire iniziò a colpirla ripetutamente alla testa con il calcio del suo archibugio e alla fine convinto di averla uccisa la lasciò alle correnti dell'Ambro. Suor Benedetta atterrita e spaventata non ebbe la forza di scappare. Col seno di poi la sua fu la scelta migliore. Pochi giorni dopo Paolo tentò di eliminare anche lei buttandola in un pozzo vuoto e lanciandole delle pietre e dei sassi nel tentativo di assicurarsi di ucciderla. Uno di questi sassi le ruppe una gamba ma entrambe le monache miracolosamente sopravvissero. Suor Ottavia gravemente ferita riuscì a raggiungere la riva dell'Ambro dove venne soccorsa e dopo essere stata riconosciuta venne tratta in arresto. Suor Benedetta languì nel pozzo per due giorni fino a quando sentendo delle voci vicine invocò aiuto e anche lei venne soccorsa e arrestata dopo la scoperta della sua identità. Da notare che nello stesso pozzo da cui Suor Benedetta venne tirata fuori venne rinvenuto anche un teschio. Indovinate di chi? Esatto avete indovinato. Era il teschio di Caterina la prima vittima. Proprio in quel pozzo Giampaolo dopo che aveva fatto a pezzi il suo corpo aveva gettato dentro la testa. Con l'arresto di Suor Ottavia e Suor Benedetta vennero scoperchiati gli altavini. Le due confessarono tutto. Soprattutto Suor Ottavia fu un fiume in piena. Questo perché essendo le sue ferite gravissime e essendo ormai accertato il fatto che non sarebbe sopravvissuta a lungo, volle sgravarsi la coscienza raccontando tutto quanto in modo da sgravarsi la coscienza prima di andare a rendere conto al suo superiore. Dopo di ciò anche gli altri complici, Suor Candida, Suor Silvia e Don Paolo Arrigone vennero arrestati. Su Giampaolo, sempre latitante, venne messa una taglia sulla sua testa, vivo o morto, e nel mentre le sue proprietà e le sue sostanze vennero confiscate, costringendo la sua anziana madre, la contessa Sofia e la piccola Alma Francesca a lasciare la loro casa di Monza e a rifugiarsi nelle proprietà della contessa madre. Il 27 novembre 1607 ebbe inizio l'istruttoria con gli interrogatori di tutti i partecipanti al lungo scandalo che aveva animato le mura ed intorni del convento di Santa Margherita di Monza. Anche Virginia fu obbligata a confessare, anche se tentò in tutti i modi nell'ammettere le sue colpe di discolparsi, di dire di non averle mai commesse per propria volontà, ma perché spinta dagli altri, da Giampaolo, da Don Arrigone, dalle sue consorelle, arrivò addirittura a dire di essere stata vittima di incantesimi e malefici. In un certo qual modo, considerando il sottile gioco di seduzione al quale era stata sottoposta all'inizio, ciò poteva anche essere inteso come verità, ma è anche vero che ad un certo punto fu Virginia stessa a prendere in mano le redini della sua vita scandalosa e tutto ciò che avvenne dopo l'inizio della sua redazione con Giampaolo venne fatto anche con la sua piena volontà. Nel mentre, al contrario, Giampaolo tentò di farsi sentire a sua volta. Mentre la sua amante riversava su di lui la quasi totalità di tutte le colpe, lui, ancora latitante, mandò nel dicembre di quello stesso anno una lettera al cardinale Borromeo, dando la sua versione dei fatti, una versione in cui lui e Virginia erano perfettamente innocenti e le vere anime nere della vicenda erano suor Ottavia e suor Benedetta, che venivano accusate di essere le vere artefici dell'uccisione della conversa Caterina e venivano aditate come le uniche menti perverse che avevano dato inizio a quello scandaloso intrigo. Si arrivò addirittura a dire che Giampaolo arrivò addirittura per spiegare le condizioni in cui versavano le due monache, arrivò addirittura a dire che era stata suor Benedetta, che durante una lite aveva spinto di sotto suor Ottavia, aveva iniziato a corchiarla di mazzate e che poi lui non sapeva niente del fatto che fosse caduta in un pozzo perché pochi giorni dopo si erano separati, lei se n'era andata per i fatti suoi e lui non ne aveva saputo più niente. Quella lettera fu un'arrampicata sugli specchi dalle dimensioni imbarazzanti ed è chiaramente l'esempio della disperazione di un uomo braccato e messo all'angolo e incapace di sapere cosa fare per difendersi. Ormai anche Giampaolo era agli sgoccioli e forse ne era anche consapevole. La sua fine giunse in maniera per lui inaspettata ma se ci pensiamo molto carmica dal momento che morì tradito da uno che pensava fosse suo amico, il conte Ludovico Taverna, al quale Giampaolo aveva già in passato chiesto asilo e protezione durante quando aveva commesso altri crimini e anche in questa circostanza gli chiese asilo e ospitalità nel suo palazzo di Milano. Il conte Taverna glielo concesse ma una notte, con la scusa di un banchetto, lo portò nei sotterranei del suo palazzo dove, dopo avergli concesso di confessarsi per mondarsi dei suoi crimini in articolo mortis, lo fece uccidere con un colpo di mazza sulla testa, proprio come Giampaolo aveva ucciso la conversa Caterina. La sua testa venne poi tagliata e consegnata al conte Fuentes. Non si sa con certezza quando Giampaolo Osio venne ucciso. Gli storici optano per una data compresa tra il 1608 e il 1610. Fatto sta che nei sotterranei del palazzo Taverna a Milano, l'attuale palazzo Isimbardi in corso Monforte, calò il sipario sulla vita di Giampaolo Osio. Una vita oscura ma inframezzata da piccoli momenti di luce, se dobbiamo riconoscere che, al di là di tutto, fu un padre e un compagno amorevole e fedele nei confronti di sua figlia e della sua amante. Ma anche per Virginia arrivò il momento dell'espiazione. Alla fine del processo, il 18 ottobre 1608, venne emessa la sentenza. Invocando ripetutamente il nome di Gesù Cristo ed avendoci unicamente Dio dinanzi agli occhi, noi affermiamo, pronunciamo e muniti dei consigli e dell'assenso dei giusperiti, nonché in ogni altro miglior modo definitivamente setenziamo come segue. Suor Virginia Maria de Leiva, monaca professa del monastero di Santa Margherita di Monza, nella diocesi di Milano, soggetto alla giurisdizione di questa curia, fu realmente ed effettivamente, non solo per assai testimonianze, ma altresì per proprie confessioni, convinta di molti gravi, enormi, atrocissimi delitti, dei quali consta nel processo istituito contro di lei e le altre religiose sue complici. Ondella appare con ogni evidenza essere rea, colpevolissima e per ogni titolo punibile, e perciò la condanniamo alla pena e rispettivamente alla penitenza della perpetua prigionia nel monastero di Santa Valeria in Milano. Vale a dire che nel detto monastero venga essa rinchiusa entro un piccolo carcere, la cui porta si abbia a serrare mediante muro costrutto di calce e sassi, di modo che la detta Virginia qui vi dimori finché avrà vita, chiusa e murata, di giorno come di notte, e sino al suo trapasso, e ciò a punizione e rispettivamente a penitenza dei suoi peccati e massimamente dei predetti eccessi, delitti, misfatti da lei e i suoi complici commessi. Anche se suor Virginia Maria Deleiva sembrò calare definitivamente il sipario, come anche sugli altri personaggi di questa vicenda. Suor Ottavia, dopo un mese e mezzo di agonia e confessioni non stop, morì il 26 dicembre 1607 per le ferite infertele da Giampaolo. A suo modo anche lei pagò per i suoi crimini. Suor Benedetta, suor Candida e suor Silvia vennero anche loro condannate ad essere murate vive nelle loro celle nel convento di Santa Margherita di Monza, mentre Don Paolo Arrigone venne condannato a remare per tre anni sulle galere. La vita di Virginia si sarebbe dovuta concludere all'interno della piccola cella nella quale era stata murata nel convento di Santa Valeria a Milano. Una cella piccola, alta un metro e mezzo e larga meno di tre metri, umida e scura, con un pagliericcio come letto, con la paglia che marciva dopo due mesi ma che veniva cambiata solo ogni sei mesi e un pitale per le deiezioni che veniva svuotato solo ogni quattro giorni, diciamo quindi non l'ambiente più salutare al mondo, ma col passare degli anni Virginia iniziò a mostrare un sincero pentimento e una genuina conversione, come se la sua condanna l'avesse aiutata a trovare quella fede che in fondo non aveva mai avuto. Non dimentichiamo che la sua non venne morata viva proprio nel senso tappata dentro, le veniva lasciato un pertugio per farle passare il cibo che alla fine era pane e acqua e un altro buco per far passare l'aria e la luce in modo che non morisse. Virginia visse quasi 14 anni in una sorta di contemplazione e continua penitenza all'interno della sua cella, fino a quando, complici le testimonianze delle suore addette alla sua supervisione, non convinsero il cardinale Borromeo a valutare seriamente la cosa, ovvero se Virginia era davvero sincera nel suo pentimento o se invece la sua fosse solo una scena per implorare una grazia. E dopo un attento esame il cardinale Borromeo, individuo sul quale nessuno storico ha dubbi sulla sua capacità deduttiva, riconobbe che Virginia si era redenta e le concesse la grazia, liberandola dalla sua cella murata il 25 settembre 1622. Virginia era entrata nella sua cella a 33 anni e ne uscì a 47 anni, ma invecchiata precocemente e secondo le ipotesi di alcuni storici con la mente intaccata. Sull'onda di questa miracolosa conversione che ricordava parecchio le tradizionali vite dei santi, anche le complici vennero toccate dalla grazia. Per suor Benedetta la liberazione era venuta già nel 1613 sotto forma della morte, forse per malattia o forse perché il suo corpo non si era mai ripreso dalla caduta nel pozzo, mentre nello stesso 1622 suor Candida e suor Silvia, forse le meno colpevoli in assoluto, poterono essere liberate. Virginia trascorse i suoi successivi 28 anni come se la sua penitenza non dovesse mai avere fine, forse sinceramente convertita, forse volendo astutamente mantenere la parvenza di aver meritato la grazia ricevuta, oppure perché gli anni di prigionia l'avevano resa una povera donna invecchiata precocemente, forse impazzita per le privazioni e per i continui traumi subiti dalla sua caduta in poi, o forse semplicemente una donna ormai stanca di tutto e desiderosa soltanto di vivere in pace e serenità. La verità, come si suol dire, solo lei potrebbe dircela. Comunque, per il resto della sua vita, trascorso nel convento di Santa Valeria a Milano, la vita di suor Virginia fu all'insegna dell'apprezzamento e della benevolenza generale. Si dedicò ai suoi doveri di religiosa come mai aveva fatto durante la sua vita a Monza, e durante la grande peste del 1629-1630, proprio la stessa narrata all'interno dei Promessi Sposi dal Manzoni, proprio durante la grande peste, Virginia si mise con grande impegno ad accudire e a curare gli ammalati nell'azzaretto e non volle mai più rivangare il suo passato, considerato per lei un capitolo chiuso della sua vita. Col trascorrere degli anni si fece addirittura, come abbiamo detto, una fama di santità, idea avallata dallo stesso cardinale Borromeo. Il fatto che si credesse, come faceva appunto il cardinale, che Virginia potesse essere già definita una futura santa, non era un'idea così sbalestrata come può sembrerci oggi. Infatti, non mancano esempi di santi e sante che, prima di abbracciare pienamente la fede, hanno vissuto una vita tutt'altro che santa, ma, come a dire, anche a livello civile e morale. Un esempio limite, ad esempio, è la storia di San Giuliano, che, secondo la leggenda, uccise per sbaglio i suoi stessi genitori, trauma, e questo fu un trauma che lo spinse ad abbracciare a pieno una vita di rinunce per espiare questo grande peccato. Da questo punto di vista, e anche e soprattutto considerando che siamo sempre in piena epoca della controriforma, Virginia era il perfetto esempio di una peccatrice redenta che finisce per diventare santa. Persino lo storico Giuseppe Ripamonti, che, come abbiamo detto, ebbe modo di conoscere Virginia nella sua vecchiaria, nel 1640 la descrisse in questo modo. Vecchiarella, curva, scarna, macilenta, venerabile. Difficilmente a vederla, la si sarebbe immaginata un tempo tanto bella e disonesta. Il 17 gennaio 1650, all'età di 75 anni, suor Virginia Maria Deleiva, colei che è passata alla storia come la monaca di Monza, morì serenamente. A dispetto di come si concluse, la vita di Virginia è assurda ad esempio degli aspetti più negativi della Chiesa, ma anche e soprattutto dei meccanismi di potere e di interesse economico che si occultavano dietro la Chiesa, con il sacrificio che si faceva di figli e figlie che venivano rinchiusi senza avere la vocazione nei monasteri, soffocando vite che desideravano solo di ardere come fuoco. A parte la Gertrude che Manzoni riadatta nel suo romanzo I Promessi Sposi, dove la vicenda della monaca di Monza viene spostata in avanti nel tempo, possiamo ritrovare ecchi della vicenda di Virginia anche in altri autori, come ad esempio nel romanzo La monaca di Diderot, che venne scritto molto prima dei Promessi Sposi, oppure La storia di una capinera, di Giovanni Verga, tutta è storia in cui si parla di monacazioni forzate, delle violenze psicologiche, a volte anche fisiche, a cui venivano sottoposte le ragazze costrette a prendere i voti. Ma a differenza delle protagoniste dei romanzi di Diderot e di Verga, che sono sole e soltanto delle vittime, Virginia fu al tempo stesso vittima, ma anche carnefice, e in un rimando che il male, anche se inconsapevole e involontario, finisce per generare altro male. E forse è in questo che risiede il fascino della figura della monaca di Monza. Per quanto la si guardi e la si studi, non si riesce mai né ad accusarla pienamente né ad assolverla completamente. Piccola nota a margine prima di chiudere. Cosa ne fu del frutto della relazione di Virginia e Giampaolo, la piccola Alma Francesca? Di lei non si sa nulla, scompare dalla storia. Sappiamo che sua nonna, la contessa Sofia, morì poco tempo dopo i tragici eventi che avevano portato alla confisca dei beni della sua famiglia, ma di Alma Francesca le fonti tacciono. Come sono solito pensare, ormai quando vedo che un bambino scompare dagli annali della storia è perché banalmente e probabilmente non ha raggiunto l'età adulta, ed è molto probabile che Alma Francesca sia morta quando era ancora piccola. Ma si è tentato magari di costruire la sua storia in un romanzo di Marina Marrazza, ovvero Miserere, Milano AD 1630, di peste e vendetta. Questo è in una vecchia, in una prima edizione Revolver, adesso questo romanzo è stato ristampato in un'altra edizione nuova, vi lascio il link Amazon qui giù nell'info box. In questo romanzo l'autrice, Marina Marrazza, prova a ricostruire la vicenda appunto di Alma Francesca, ipotizzandola diventata adulta, sopravvissuta, e adesso in questo romanzo, ambientato proprio durante la peste del 1630, impegnata a portare avanti una sua vendetta stile conte di Monte Cristo contro coloro che hanno segnato la rovina e la fine dei suoi genitori. È un romanzo molto interessante, molto ben documentato e ve lo consiglio di cuore, è molto interessante. Sempre di Marina Marrazzo c'è un altro romanzo, una sorta di prequel a questo romanzo che però è stato scritto molto più di recente, eccolo qua, Il segreto della monaca di Monza, in cui si raccontano appunto le vicende di Virginia, di Giampaolo, delle loro complici. È un romanzo scritto benissimo, molto completo, con una perfetta ricostruzione di tutti i personaggi, sia principali che secondari, con un'ottima documentazione. Sono curioso di sapere se veramente, secondo quanto ho scritto la Marrazza in questo romanzo, Suor Silvia, cioè la meno complice delle complici, era davvero una cugina di Giampaolo. Se magari qualcuno di voi ne sa, me lo faccia sapere, grazie. Beh, un romanzo a dispetto della copertina molto similarmonie del titolo a chiappa click, è veramente scritto bene, quindi io ve li consiglio entrambi. Leggetevi come se fosse proprio uno il Sir, sebbene questo sia stato scritto prima e questo successivamente, sono un bel dittico da leggere. Leggete prima Il segreto della monaca di Monza e poi immergetevi nella vicenda della figlia della monaca di Monza con Miserere. Bene, per quanto riguarda la bibliografia per questo video, io mi sono basato principalmente su questo che per me ormai è un testo imprescindibile, ovvero La monaca di Monza di Roberto Gervaso, un libro che ho da tanti anni e praticamente penso sia una delle primissime biografie che acquistai quando ero piccolo. Quanti anni avevo? Avevo 12-13 anni, dovevo avere sede del 2004, sì avevo 13 anni all'epoca, quindi sì. E purtroppo è fuori catalogo, su Amazon lo si può trovare magari di seconda mano, io comunque vi lascio sempre il link qui giù, il link Amazon qui giù se volete recuperare i testi, ma ci sono molti altri testi che ricostruiscono la storia di Virginia, caso mai ve ne lascio qualcuno qui giù, qualche link Amazon qui giù nell'info box se siete interessati. Per quanto riguarda la filmografia, ovviamente una storia come quella della monaca di Monza non poteva non interessare anche cinema e televisione. A parte gli adattamenti dei Promessi Sposi, in cui vediamo anche la storia della monaca di Monza, sono stati realizzati dei film dedicati solo a lei sul piano storico. Io ve ne consiglio due in particolare, ovvero la monaca di Monza del 1962 per la regia di Carmine Gallone con Giovanna Ralli nel ruolo di Virginia e Gabriele Ferzetti nel ruolo di Giampaolo. Allora è ben costruito, cerca di dare una visione il più vicina alla realtà dei fatti possibile. Il problema però è che questo film risente un po' della sua epoca, quindi tenta di romanzare, romanticizzare un po' troppo la storia. Vi basta per che qui Giampaolo viene rappresentato come un tipico eroe di cappa e spada, la loro è una vera storia d'amore eccetera eccetera. È un film piacevole, esatto per un... facciamo un 50% dai. Vediamo comparire anche le due complici, Suor Ottavia e Suor Benedetta, però sono praticamente che delle comparse sullo sfondo, semplici testimoni più che complici. Invece, questo se volete veramente un film attinente proprio al 100%, La Monaca di Monza del 1969 di Riprando Visconti. È un film che rientra già un po' nella categoria dei film un po' scollacciati degli anni 70-80 del cinema all'italiana, ecco. Però al di là delle scene un po' più originose, che comunque ragazzi ci stanno vista la vicenda, ci stanno perfettamente, non sono mai fini a se stesse, racconta tutta quanta la vicenda nella maniera più esatta possibile. Vediamo anche tutte le complici, vediamo Suor Ottavia, Suor Benedetta, Suor Candida, non c'è Suor Silvia, Suor Silvia a soggire è stata risparmiata, vediamo Don Paolo Arrigone, la sua relazione con Suor Candida, vediamo la fuga di Giampaolo con Suor Ottavia e Suor Benedetta al seguito, vediamo anche il tentativo di eliminare Suor Ottavia, che in questo film viene davvero uccisa sotto gli occhi a teori di Benedetta, che non viene gettata nel pozzo ma viene lasciata lì vicino al cadavere, in preda al corpo di Suor Ottavia, in preda al terrore. Per il resto comunque ben fatto, ben documentato e sì, se volete un film proprio esatto al 100%, questo qua del 1969 consigliato. Non vi consiglio assolutamente la fiction Rai del 2004, Virginia, la monaca di Monza con Giovanna Mezzogiorno nel ruolo di Suor Virginia, ragazzi, perché è non c'entra assolutamente nulla, hanno preso la storia di Suor Virginia e l'hanno riscritta completamente, non c'è una sola cosa esatta in quel film, niente, solo i nomi dei personaggi e la parte centrale della storia con Virginia e Giampaolo. Per il resto basta, tutto quanto inventato di sana pianta, per me è bocciatissimo, guardate, belle le musiche, belle le ambientazioni, ma per il resto no, 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 assolutamente no, non ci siamo. Bella l'interpretazione di Giovanna Mezzogiorno, bravissima, che riesce veramente a interpretare sia la Virginia piccola che la Virginia donna, usando la tonalità della voce molto bene da brava artista qual è, però il film in sostanza no, non ci, la fiction non va bene, non mi spiace, non ci siamo. E niente, non penso di poter aggiungere altro, se magari voi avete altri testi da suggerire a livello di romanzi, film, testi biografici, siete i benvenuti qua nei commenti. E niente, io concludo qua il video, spero che vi sia piaciuto, lasciatemi un like se così è stato, commentate e ditemi la vostra su cosa ne pensate voi della vicenda di Suor Virginia, se vi ha fatto più pena, se per voi è più da condannare o più da assolvere. Per me, ragazzi, io preferisco non condannare perché penso sempre che siamo tutti quanti fallibili, certo non si possono giustificare quei delitti commessi, ma penso che abbiano tutti quanti i personaggi di questa storia alla fine abbiano pagato il giusto, forse alcuni hanno pagato anche forse in eccesso, ma è la mia opinione. Ditemi invece voi la vostra, iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video, mettete mi piace alla mia pagina Facebook, seguitemi anche su Instagram sempre se volete e noi ci rivediamo ad un prossimo video. E ciao!